Un'aiuto ai pensionati che vivono in affitto. Il Comune di Lecco ha avviato la raccolta delle richieste di sostegno in relazione alla cosiddetta misura 4, approvata dalla Regione lo scorso aprile, che prevede un contributo economico per le famiglie in locazione sul libero mercato o in abitazione a canone moderato, il cui reddito provenga soltanto dalla pensione, escluso dalla possibilità a chi già beneficia dell'edilizia residenziale pubblica. Per ricevere il contributo l'affitto deve incidere per almeno il 25% del reddito imponibile. A conclusione del bando, l'ambito distrittuale di Lecco suddividerà il fondo in base a tutte le domande idonee e stabilirà la singola quota erogabile, che non potrà superare l'importo di 1.500 euro, ma potrà essere inferiore in base alla disponibilità del fondo o al numero di domande. Il contributo non sarà erogato direttamente ai pensionati, ma al proprietario dell'alloggio, a copertura dei successivi mesi di affitto, a fronte dell'impegno di non aumentare il canone per almeno un anno o di rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Per ogni informazione sulle iniziative, i pensionati interessati possono contattare lo sportello affitti al piano terra del municipio di Lecco. La domanda di contributo deve essere presentata su un apposito modulo. Lo sportello affitti aiuterà i cittadini a compilarlo. Non saranno prese in considerazione le domande consegnate dopo il 1. dicembre 2017, termine perentorio di scadenza. Possono accedere al bando anche i residenti degli altri comuni della provincia, presentando domande ai rispettivi municipi, secondo le modalità stabilite dai servizi sociali d'ambito.